Rafforzare la connessione del cuore è la chiave per accedere alla tua profonda ed intuitiva intelligenza del cuore e in questo video vedremo insieme semplici passi per creare e mantenere una connessione cuore-cervello forte e durevole. In ogni istante delle nostre giornate una conversazione ha luogo dentro di noi, è una conversazione silenziosa, spesso subconscia e interminabile di segnali basati sull'emozione tra il cuore e il cervello, nota anche come connessione del cuore. La ragione per cui questa conversazione è così importante è perché la qualità del segnale emotivo che il cuore trasmette al cervello determina quale tipo di sostanze chimiche rilascia poi il cervello nel corpo. Quando senti ciò che in genere chiamiamo emozioni negative, ad esempio rabbia, odio, gelosia e rancore, il tuo cuore invia un segnale al cervello che rispecchia i tuoi sentimenti. Tali emozioni sono irregolari e caotiche e questo è esattamente ciò che il segnale invia al cervello, ovvero il caos. Il corpo umano interpreta questo tipo di segnale come stress e attiva i meccanismi per aiutarti a rispondere in modo appropriato. Lo stress delle emozioni negative aumenta i livelli di cortisolo e adrenalina, spesso chiamati ormoni dello stress, che ti preparano ad una reazione rapida e potente a qualsiasi cosa ti causi stress, che è la risposta istintiva di lotta o fuga. La ricerca ha dimostrato che quando creiamo emozioni ringiovanenti come apprezzamento, cura, gratitudine e compassione, il segnale dal cuore al cervello diventa più armonizzato per riflettere la qualità di tali emozioni. In presenza di un segnale armonizzato, gli ormoni dello stress diminuiscono, permettendo al cuore e al cervello di cambiare e produrre la chimica che supporta una risposta immunitaria più forte e una maggiore quantità di DEA, il precursore di tutti gli altri ormoni nel corpo. La cosa importante è che la qualità della tua connessione cuore-cervello sia direttamente collegata alla qualità delle emozioni che senti nel tuo cuore. In questo modo scienza e spiritualità si sovrappongono magnificamente. Mentre la scienza descrive la relazione elettrica e la connessione tra il cuore e il cervello, le antiche pratiche e tecniche spirituali hanno aiutato le persone ad applicare tale connessione nelle loro vite e lo fanno senza una spiegazione scientifica. Ma quali sono i passi per creare e mantenere una connessione cuore-cervello forte e durevole? Il primo passo è quando ti senti sopraffatto dagli eventi del giorno o semplicemente desideri essere più connesso con te stesso, sposta l'attenzione all'area del tuo cuore e inizia a respirare più lentamente del solito, come se il tuo respiro provenisse dal cuore. Questo passaggio è una tecnica potente per te stesso, poiché mentre rallenti la respirazione stai inviando un segnale al corpo in generale e specificatamente al tuo cuore che sei in un posto sicuro e che è bene rivolgere la tua attenzione verso l'interno. Il secondo passo è quello di attivare una sensazione positiva. Fai un sincero gesto di sperimentare apprezzamento o cura per qualcuno o qualcosa nella tua vita. La chiave di questo passo è innanzitutto creare il sentimento al meglio delle tue capacità e poi abbracciare tale sentimento. La tua capacità di sostenere la sensazione è ciò che mantiene la conversazione ottimale tra il tuo cuore e il tuo cervello. Il terzo passo è utilizzare il fiore australiano Tall Yellow Top che ti aiuta a ricollegare testa e cuore se stai sperimentando una mancanza d'amore. Slenderize Flower aiuta a stabilire una connessione di mente e cuore laddove ci siano pregiudizi e comparazioni negative riguardo a razza, usi e costumi culturali e religione. Infine Hi Bersha ti permette di trasferire la tua conoscenza intellettuale alla realtà dei sentimenti dove può essere integrata a conoscenza del cuore. Se questi contenuti ti sono stati di aiuto condividili pure con le persone che ami. Grazie per l'ascolto e a presto!